Allora, il mando come ce l'ha anche fatto? Perché è un felino strano, oltre che è l'unico felino, cioè il felino più grande a fare le fusa, perché tipo i grandi felini come io ne rugiscono, anche la tigre rugisce, tutti gli altri, perché magari si riforma la faringe, il gatto invece fa le fusa, no, se ho detto pure che è un piccolo felino, cioè un po' più grande un gatto, non piccolo, e anche il che parte, il più grande felino è in grado di fare le fusa, non rugisce, quindi quando è contento fa le fusa. Grazie per la visione!